Un caro saluto da Diego Fusano, un caro saluto a tutti. La novità degna di rilievo è che adesso anche il Cile si è associato al Sudafrica nell'accusa intentata a Israele, ossia l'accusa di genocidio. Quindi anche il Cile si affianca al Sudafrica e si oppone fermamente alle politiche imperialistiche di Netanyahu. Ci sembra importante sottolineare questa notizia da che evidentemente non tutti i governi del mondo sono subalterni a Israele e a Washington e vi sono ancora governi come quello del Cile o quello del Sudafrica che hanno il coraggio e l'onestà di procedere controvento, obstinate contra, in questo caso di andare direttamente contro la potenza di Israele, la quale, non mi stancherò mai di ribadirlo ad nauseum, sta compiendo un vero e proprio massacro contro il popolo di Gaza utilizzando due teoremi per giustificare il proprio massacro. Dice che lo sta facendo per combattere contro il terrorismo, dice che lo sta facendo perché questo è il suo diritto di difendersi. Ora, difficile dire che sia lotta al terrorismo, l'aggressione di civili, donne, anziani e bambini a Gaza, come è difficile dire che sia legittima difesa l'attacco diretto contro il popolo di Gaza. Insomma, Israele giustifica piuttosto male il proprio operare e, come dico sempre, all'orrendo terrorismo di Hamas, ottobre 2023, Israele ha reagito con un orrendo terrorismo. Di fatto, al terrorismo di Hamas ha fornito una risposta essa stessa terroristica. E adesso non possiamo che giubilare alla notizia testecommentata, quella per cui anche il Cile si associa all'Africa, al Sudafrica, e vuole portare Israele al Tribunale dell'AIA con l'accusa pesantissima di genocidio.